... ... ... ... ... Sono sempre lui, sono stati sempre lui. Entra Mapa Sozzo, chi Mapa Sozzo è l'inizio. Poi io l'inizio fu i tuoi. L'inizio di tutto lo scusso. Per 20 anni. Per 20 anni, perciò. E' un altro che l'ha portato avanti al grande stile. Quasanova. 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 Quasanova, c'è tutto il gioco. Certo. Certo. Che tutti quanti hanno riconosciuto, hanno respetato il nanno, sono un uomo. Ma in realtà sono due fratelli che camminano dallo stesso nonna. Oh, Mapa Sozzo. Proprio l'origine. E tutti le scosse. L'origine. Poi io l'inizio fu i tuoi. Lo 75. Sì, sì, sì. Lo 75, ma poi te stiamo diciamo. Lo 75. Lo 75. E poi te stai. Quindi. Io ora fai ottenuto sei anni. O non fai? A me non fai. Siamo tutti. Tutte una cosa. Siamo tutti qua. Ci stavo per lo stesso nome. Di questo. Tutto. 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 Ma se domani c'è una discussione. Tutto. E chi è? La sai io? Tutto. Tutto una masata. Però quei due ragazzi. che è successo. No, guarda. Ti ha detto una cosa. All'alvorso. Pieno. Tu quasi te. Tutto. Poi. Successo quello che è successo. E non ha preso la sua strada. Certo. Io gli ho detto di dire. Allora. Questa vorrebbe di ora. E non c'è ancora. Ma non c'è ancora. Dite che io avevo la mia pastatrice anni. E non è che 58. E non c'è ancora.